Carissime amiche ed amici, bentrovati, bentornati sul canale. Continuiamo con il caso di Pierina Paganelli. Vedete, questo è un caso veramente in evoluzione. Perché i tasselli tornano tutti al loro posto. Anche se fino a questo momento non ci sono i provvedimenti ufficiali. Però come non notare che tutti gli elementi ruotano intorno ai soliti sospettati, intorno al solito condominio, intorno al solito pianerotto. C'è un altro tassello stamattina, un altro mattoncino che costruisce come una gabbia intorno a questi soggetti. E quello più esposto in questo periodo sembra Lewis. Ecco, Lewis che fosse il meno scaltro, diciamo, della comitiva. Perché si fa scoprire che non zoppica, quando invece in favore di telecamera zoppica. Colui che consegna indumenti alla polizia che non sono quelli che indossava quella sera. E si contraddice. Ma viene fuori ieri la notizia che quando lui consegna in secondo momento quegli indumenti così mostralati dalla telecamera fissa di quel 3 di ottobre. Manca l'appello, una maglietta bianca, maniche coste, che lui usava quel pomeriggio. E non c'è. Perché poi Valeria ne aveva portata una ma aveva le maniche lunghe. Non è quella. E allora c'è il mistero di come mai questa maglietta a maniche coste non ci sia più. Quando lui la indossava quel pomeriggio. Allora, cosa si deve mai pensare? Sei volatilizzata questa maglia? Questa maglietta? Sembra quasi una mossa da scacco matto, vedete? Perché è stata buttata. Se non è stata buttata deve essere in casa. Qual è l'idea? Forse fa parte di quel lavaggio, di quel lavaggio quando è stata avviata quella lavallice notturna. Magari essendo bianca questa maglietta non si è prestata un lavaggio approfondito, delle macchie. Cosa bisogna pensare se non questo? Perché la maglietta che non salta fuori pesa, pesa come un macigno in capo a Lewis. E se pesa come un macigno in capo a Lewis, pesa come un macigno in capo anche agli altri. Perché l'unico che non aveva dei motivi di ordine personale per fare qualcosa di male a Pierino è proprio lui. Però può essere stato condizionato, plagiato in qualche modo. Quella lama di 15 centimetri così grande, quel coltello così grande, usato in maniera così violenta, profonda, con la lama che entra tutta nel corpo di Pierino, indica certamente una forza, un'abilità, una forza nell'uso di queste armi. La mano è maschile, non ci giriamo intorno. Quindi anche il fatto di quei messaggi, di quei messaggini diciamo pseudo amorosi che dalle 22 manda Manuela a Lewis. Vedete? È strano questa cosa qua. Cioè, intorno alle 22, Valeria va a dormire, ci sono questi messaggini che Manuela manda a Lewis dicendo di essere preoccupata perché l'indomani deve andare dai testimoni di Geova per quella sua vicenda, baci bacini. E stranamente, dalle 22, lui se non risponde a questi messaggini, perché dorme come un angioletto o perché è impegnato a fare altro. Cosa strana. Si ricevono dei messaggi senza risposte, perché si dorme. Riepilogando, quella sera, sembra tutto, diciamo, organizzato in un certo modo. Alle 9.45 circa finisce la riunione dei testimoni di Geova. E' come se da quel momento, cioè da quel momento della fine riunione, scattasse un piano. Abbiamo che, da quel momento che finisce la riunione, abbiamo una Valeria che, la moglie di Lewis, che si alza, va a dormire, dice 9.55. E Lewis, quello che non si sa se zoppica o finisce di zoppicare, rimane sul divano, dice, ma si deve pensare che cada in un sonno di tipo istantaneo e profondo, perché? Perché quando la moglie se n'è andata, lui l'ha vista, dice, lei è andata e io sono rimasto sul divano, ma intanto arrivavano i messaggi di Manuela. Arrivavano i messaggi di Manuela. Perché non rispondere a quei messaggi? Non è che è caduto in un sonno di tipo istantaneo, non credo proprio. E quindi, come mai non risponde? E allora bisogna pensare male, ecco, bisogna pensare male e pensare che egli possa essere uscito invece di casa dopo le 22, magari in compagnia di Lewis. Sono gli unici due uomini di questo quartetto. Gli unici due che possono anche uscire senza destare sospetti, perché Manuela sta in casa, c'è la figlia con lei. E alle 22.10 arriva l'auto, arriva l'auto di Pierina. L'ascensore in quel momento è bloccato a pianotezza, bloccato. Quindi, il tempo di lasciare l'auto nel garage, poi le 22.14, l'azione si svolge in due minuti, praticamente. Poi lo strappo della gonna, la messa in scena, degli indumenti intimi, queste cose qua. Però, alle 22.16, già tutto è compiuto. E allora quegli scatti di quelle foto delle 22.48 non hanno significato. Anzi, foto di un Loris a terra esausto era esausto per che cosa? Non certo per la fatica di aver cenato a casa con quelle mani sporche, con la maglietta sudata. E la nipote che, da subito, dice ma lo zio è uscito poco dopo le 22.00. E invece poi, dice, va bene, forse avete ragione voi, è uscito alle 23.00. E lui torna dopo le 23.00, sicuramente va via poi Loris verso casa sua. E dopo la mezzanotte, l'una di quella notte, viene avviata quella lavatrice a casa di Duilio. Non si è mai capito, no? A che serve. E allora dobbiamo credere che sia stata una notte tranquilla, che sia stata tutta una serie di combinazioni, questi movimenti strani. Dobbiamo credere che Lewis, in tutto ciò, dormiva abbiatamente sul divano. O che invece dobbiamo pensare che avesse consegnato i suoi indumenti da lavare? E perché il giorno dopo non consegna quegli indumenti? E quando il giorno dopo Loris lo vide, la prima cosa che dice, ricordiamoci, è giustizia divina è stata fatta. Giustizia divina è stata fatta. Ma chi sono questi giustizieri divini? Chi sono? Vedete? Non si può pensare ad altro. Ora, questi personaggi, questa solidarietà che avevano, loro quattro, che si vedevano, insieme, adesso è venuto a meno, perché non si vedono nemmeno più, tanto meno insieme. Non rilascano più dichiarazione, c'è un'area di tensione, perché loro sanno che il cerchio veramente qui si stringe. Meno male che non ci sono per televisione nemmeno l'avvocato, questo consulente, Bazzane, che ogni minuto stava in tv a dire vedete che viene da fuori il killer, vedete che non c'entrano niente. Non si può pensare, anzi, anzi, che ci sia o che ci possa essere un collegamento fra l'attentato, devo dire a questo punto, a Giuliano e la morte di Pierina, potrebbe anche essere, ma la mano potrebbe essere condotta alla stessa persona o alle stesse persone, perché Giuliano lì doveva morire. quello è il senso, per come stava rovinato e non è morto, ecco. E la mano potrebbe essere la stessa, altro che incidente stradale. Però, ovviamente, su questo ci sono molte più incognite. Però badate bene che quel 7 di maggio, riguardo Loris e Manuela, Loris era l'alibi di Manuela, Manuela era l'alibi di Loris. Così come quella sera del 3 di ottobre, Loris era l'alibi di Manuela e Manuela era l'alibi di Loris. Che quella sera, guarda caso, va a cena. Scatta l'invito a cena. Scatta l'invito a cena. Perché lui, Loris, deve andare a trovare Luis che ha avuto questo strano incidio, e dicono siamo rimasti fino alle 20 a parlare a casa di Manuela. Poi lui è andato a cenare con la moglie. Guarda caso però, guarda caso però, che questo loro parlare fino alle 20 è contraddetto da quell'immagine della farmacia lì interna del condominio che lo immostale, immostale a Luis alle 19 e 30 che passeggia nervosamente per il cortile. E allora tante cose che non tornano. La solidarietà fra i quattro sta venendo meno. Vediamo qual è l'anello più debole, quello che cede per prima. io credo che possa essere Luis. Credo che possa essere Luis perché su di lui si stanno concentrando le maggiori attenzioni e i maggiori sospetti. Però è un dato di fatto e concludo che chiunque di questi quattro personaggi abbia delle responsabilità sono responsabilità anche degli altri perché sono stati così solidali fra di loro che uno copre l'altro per cui sicuramente la responsabilità di uno è la responsabilità di tutti. Vedremo adesso come andrà a finire questo altro giallo della maglietta bianca che sparisce e quindi ecco siamo sempre più alla vigilia di provenimenti molto importanti. Grazie amici miei grazie condividete il video con i vostri amici restate in contatto col canale grazie del vostro affetto e un abbraccio a tutti quanti voi ciao